mamma cosa stai facendo prendo il sole con gli occhi chiusi perché così non si vedono le grinze le rughe anche nelle rughe va il sole ed è già abbronzata la signora palma quello lì ha detto che mi manda i carabiniere perché non ho detto la mia età non ci crede no perché hai falsificato i documenti ha detto che ho falsificato i documenti e io glielo ho detto gli ho detto che sono del 18 2 31 più che così non si possono sei già rossa hai già preso colore lo sento già che va dentro la pelle proprio a momenti mi altro perché si brucia e sono le nove del mattino e sono le nove del mattino però c'è fresco ecco adesso mi do prima devo mettermi le maniche lunghe capito ma di mangiare faceva freddo di mattina freddo io non ne avevo né prima vabbè vabbè tu metta che ci sono 30 anni di differenza non è giusto più o meno ok ciao